Come fare trading crypto sui Perpetual in DeFi? Lo vediamo in questo video. Ragazzi ormai sapete che sono un fan della DeFi e cerco il più possibile di operare quando devo operare proprio in DeFi. Sia che io voglia fare trading spot e porterò tantissime soluzioni qui sul canale quindi tieniti pronto sia che io invece voglia fare il trading tradizionale. Allora proprio in ambito di trading tradizionale vorrei mostrarti questa piattaforma qui visto che in tanti mi state chiedendo dove posso fare trading in DeFi quindi senza passare necessariamente da un exchange centralizzato un checks ma passare invece a un DEX. Una delle soluzioni che stanno nascendo emergente è proprio questa. Evo che ci permette sostanzialmente di fare trading proprio in DeFi. Qui ci fa vedere giusto un paio di cose strategie eccetera 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 è già abbastanza grossa già fatto un bel round di investimento quindi tirato su un bel po' di capitali ti vado a mostrare però come si presenta la piattaforma. Una volta entrati come possiamo vedere che cosa abbiamo. Abbiamo la nostra piattaforma per far trading e come puoi vedere qui abbiamo il classico buy sell esattamente come per gli exchange centralizzati market limit quindi possiamo piazzare ordine a mercato ordine limite. Possiamo decidere di andare cross o isolati e andare a selezionare la leva e poi ovviamente possiamo andare a mettere qua la sites dell'ordine. In questo caso il cambio è eth usd possiamo scegliere se inserire l'importo qua in usdc oppure in eth e poi piazzare l'ordine. Ovviamente ora qua non ho il wallet connesso ma basta cliccare qua in alto connect wallet e possiamo andare a connettere che cosa? Il nostro metamask, il nostro brave wallet, possiamo connettere il coinbase oppure wallet connect. Ci muoviamo su rete eth quindi le fee sono quelle della rete eth ovviamente ma sono abbastanza basse. Andiamo a vedere giusto per avere un'idea i mercati. Come vediamo abbiamo diversi futures. Ci sono sicuramente tutti i principali. Abbiamo i futures, i pre-launch token e le opzioni perché potremo anche operare con le opzioni ragazzi sempre in DeFi e quindi questo è estremamente interessante. Vedremo come evolverà ovviamente questo DEX. Per ora è sicuramente da tenere in considerazione perché fa molto molto bene. Ora una domanda che sono sicuro che mi verrà fatta è ma se questo DEX è così promettente, è così interessante? Ha un token su cui investire per poter trarre profitto? Perché se la piattaforma cresce crescerà anche il token. Ebbene sì il token c'è e non solo può essere sicuramente da tenere in considerazione ma aiuterà anche per chi lo possiede mettendolo in staking ad avere commissioni più basse che già comunque sono relativamente basse. In più lo si può ottenere gratis. E come si fa a ottenerlo gratis? Beh ragazzi sta per essere lanciato il token su Binance e quindi Binance sta facendo che cosa? Proprio il nostro launch pool. Diamo un'occhiata velocemente. Ti lascio questo link qua sotto così puoi leggere da te questa parte qui. Noi andremo a vedere solo giusto due cose. Questo è il token. Come vediamo è un exchange roll up based. Vediamo il token avrà funzionalità di governance quindi gli holder potranno votare per gli upgrade della piattaforma stessa e staking per ottenere delle fee ovviamente scontate. Qui ci sono un pochino di dettagli. Ecco qua questo molto importante. Il progetto ha già raccolto 16.6 milioni in tre round di investimento. Questa è una cosa sicuramente da tenere in considerazione. Vuol dire che dietro stanno entrando soldi. E quando entrano soldi in un progetto ragazzi cosa succede? Succede che quel progetto molto probabilmente innoverà e crescerà bene. Qui abbiamo i dettagli del token. Il token si chiama Evo. È un ERC20 quindi su rete ETH. La massima supply è di un miliardo. Appena verrà listato su Binance avremo 110 milioni. L'allocazione per il pool di liquidità che adesso andremo a vedere insieme di 45 milioni. Il lancio del launch pool sarà dell'otto marzo. Quindi ragazzi sarà domani. Bisogna affrettarsi. Questi sono i prodotti già esistenti. Abbiamo il trading perpetual con oltre 60 coppie, 60 mercati. Trading sui token in prelancio e le opzioni che abbiamo visto prima su ETH e BTC. Qui c'è tutta la parte della distribuzione e così via. Vediamo a questo punto come andare a recuperare questo token qui. Quindi come partecipare di fatto al launch pool. Allora per partecipare al launch pool qua ci sono tutti i dettagli su Binance. Vediamo che ci dice che per partecipare al launch pool funziona come tutti i launch pool tradizionali di Binance. Si mette in staking BNB o FDUSD per 5 giorni. Il farming abbiamo detto inizia l'otto quindi domani e il token Evo sarà listato il 13. Quindi in questo lasso di tempo andremo a fare che cosa? A fare sostanzialmente farming del token partecipando quindi al launch pool. Avremo poi il 13 listate le coppie a Evo BTC, Aevo USDT, Aevo BNB, Aevo FDUSD e Aevo TRI. E a proposito se vuoi partecipare a questo launch pool ma non hai ancora Binance qua sotto ti lascio il link per registrarti gratis all'exchange e ottenere anche degli sconti sulle fee. Qui abbiamo l'allocazione. Vediamo nel BNB pool ci saranno 30.000 Evo. Nel FDUSD pool ce ne saranno 7.500. Questi sono i vari pool e quello che danno in reward come vediamo qua. 36.000.000 Evo in reward l'80% sarà per lo stake BNB e per lo stake FDUSD 9.000.000 Evo di token. Ora come smettono in staking i BNB? Come si partecipa al launch pool? Clicchiamo qua. Stake BNB o stake FDUSD è uguale. Ci porta la stessa pagina, quella dei launch pool che vediamo qui. In particolare già quella del progetto di Aevo. Ora qua ci mostra che sarà lanciato tra 13 ore al momento in cui sto registrando io. Comunque verrà lanciato l'8 di marzo abbiamo detto. Qua ci sono di nuovo tutti i dettagli. Posso partecipare alla pool in BNB oppure alla pool in FDUSD. Esempio se voglio partecipare alla pool in BNB che cosa mi basta fare? Scendere, andare qui, cliccare stake e mettere in stake ovviamente i miei BNB. Quindi qua inserirò i miei BNB. Clicco stake e in automatico sarò dentro la pool. Qua mi farà vedere i reward che sto accumulando giorno per giorno proprio dei miei Aevo token. Quindi questo è come funziona il launch pool di Binance in particolare per questo progetto qui. Un progetto a mio avviso estremamente interessante che vale la pena tenere sotto controllo perché il DEX è già attivo. Funziona molto bene quindi mi aspetto che questo token possa performare bene e ottenerne qualcuno gratis utilizzando in leva i nostri BNB è sicuramente un'ottima cosa. Qua sotto ti lascio il link di registrazione a Binance se ancora non ti sei registrato. Ti lascio i dettagli di questo progetto qui. Ti lascio anche la pagina linkata per il launch pool così puoi partecipare. Qualsiasi domanda, qualsiasi cosa scrivila pure qua sotto nei commenti e ci vediamo nel prossimo video. Grazie.